ElectraMet sta trasformando la circolarità offrendo soluzioni sostenibili ed economiche per la rimozione dei metalli. Le soluzioni ElectraMet generano un impatto positivo nelle fabbriche manifatturiere che si concentrano sull'efficienza operativa e la sostenibilità, eliminando gli sprechi, recuperando i metalli in loco e garantendo la conformità attraverso un design intelligente e l'automazione. Aiutiamo a ottenere risultati migliori per le loro fabbriche e per l'ambiente. Fondata nel 2014, ElectraMet ha una ricca storia di innovazione riconosciuta da importanti finanziamenti dalla National Science Foundation, dal National Institute of Health e dal Department of Energy. Le esigenze dei clienti hanno alimentato lo sviluppo di tecnologie all'avanguardia per la rimozione e il recupero dei metalli per il rispetto delle norme di scarico e la purificazione dei materiali. Il business di ElectraMet è la consegna di specifiche, focalizzata sull'efficienza del lavoro, dell'energia e del trattamento. Che tu abbia come obiettivi la garanzia del processo, la mitigazione del rischio, la riduzione degli sprechi o l'ottimizzazione del lavoro, ElectraMet ti offre soluzioni. I sistemi ElectraMet sono progettati per resistere a ambienti operativi difficili in modo da poter garantire che tu mantenga le tue promesse nei confronti dei leader e della comunità e ti concentri sulle tue competenze principali. La scienza dei materiali e l'elettrochimica vengono sfruttate per offrire la migliore rimozione e recupero dei metalli nella loro categoria. ElectraMet utilizza la consolidata scienza elettrochimica per separare l'acqua, ottenendo elettroni, ossigeno e un protone. Gli elettroni vengono mescolati con ioni metallici per generare in modo affidabile ed efficiente un metallo solido. L'ossigeno e il protone vengono portati via in soluzione e non sono dannosi per l'ambiente o per i processi successivi. Per metalli come il rame, è possibile recuperare il metallo puro sotto forma di tubi. Il recupero sul posto consente di ottenere crediti per le emissioni di scope 3 e scope grazie all'evitamento di estrazione e trasporto. I metalli recuperati vengono venduti a riciclatori, generando una nuova fonte di ricavi per compensare i costi di trattamento. I sistemi ElectraMet impiegano sensori per generare dati fisici e calcolati. Vengono condotte analisi avanzate per ottenere informazioni utili, consentendo agli operatori di risolvere in modo proattivo i problemi prima che diventino criticità. ElectraMet ha un impatto sui mercati in cui gli occhielli metallici servono come impurità nel processo o nel flusso di rifiuti. Fai il primo passo verso un mondo migliore e contatta ElectraMet per trasformare la circolarità nel tuo sito. Visita oggi stesso il nostro sito web